Allora, oggi vi faccio vedere come si fa a fare la salsiccia, perlomeno come fanno loro a fare la salsiccia. Dopodiché prenderò lo spunto, prenderò un po' di idee e poi dopo la proviamo a fare in cucina, là da me, manuale e vediamo come viene. Infatti oggi sono qui e prenderò i budelli per poter fare la salsiccia in casa. Ci vediamo in dentro. Ciao, sono Davide. Allora, oggi mi trovo in un ingrosso di carne, GZ Carri, che è un mio fornitore, naturalmente Gigi, Luigi, Gazzotti, mi ha fatto il piacere di farci vedere come fa a fare la salsiccia e oggi mi trovo qua con lui che ci fa vedere esattamente le fasi per fare la salsiccia. Diciamo, la prima fase l'ha fatta stamattina, purtroppo non ho avuto tempo di venire, che è la macinatura. Comunque abbiamo già la tramoggia e poi questa qua serve per mescolare la salsiccia, come l'ha appena spiegato lui. Abbiamo macinato, condito e impastato. Quindi questo macchinario qua adesso è spento, però ci sono delle lame dentro che vanno a mescolare bene l'impasto per mescolare gli ingredienti, insomma. La macinatura è fatta stamattina, lui macina con una piastra del 6, dico bene. Ok, allora partiamo con, che probabilmente dopo di macinarne ancora, magari vengo a fare 4, quindi dopo vi farò vedere e vi scrivo, un attimo, non voglio distruggare più di tanto. Poi da questa fase qua la carne viene presa e messa nell'insaccatrice, che è un cilindro, esatto, a pistone, che viene riempito, dopo viene chiuso tutto, in pressione, con il pistone, la carne fuoriesce da qui, da questo tubo, dove c'è stato infilato il budello, non c'è solo il budello naturale, e il risultato finale è questa qua, una salsiccia fatta finita e ingodellata. Perfetto, poi dopo verrà legata e, vabbè, il listo poi me lo dirai dopo mentre maciniamo, adesso vediamo effettivamente il funzionamento. Allora il budello, il budello che tutti mi chiederanno, voglio anticipare, ecco, voglio anticipare subito il budello, cos'è? Un budello di montone. Un budello di montone naturale. Un budello naturale, da quello che ho capito, sono ben budelli robusti. Sì, esatto. Mi faccio vedere qua, e adesso le abbiamo messe in bagno che si avvolveriscono. Quindi praticamente il budello si presenta così? Esatto. Già intubato, questo è per una questione sbrigativa, lo infini, sei già posto, senza star lì a snodare. Quindi tu quando li vendi, li vendi così? Esatto. Bene, difatti dopo prima di andare via lo prenderò, perché così provo a farlo anch'io a casa, dai. Quindi viene messo a mollo nell'acqua calda, è sufficiente 10 minuti. Viene pulito dal sale e da tutto, sì, 10 minuti e dopo sei pronto per... Giusto Luca? Correggimi se sbaglio. Sì. Ok, qui abbiamo Luca, che è proprio il cugino di Luca Toni, il grande campione mondiale. Ha vinto un mondiale. Ha vinto un mondiale e adesso appena ci volta è il nostro tecnico, sì eh. Poi magari diciamo di guardare il video così. No, no, no. Fatti vedere. No, dai. No, dai. Invece qui abbiamo Ubaldo, che è un disostruttore. Disostruttore di Moveni. Disostruttore di Moveni. Che lui invece è il cugino di Carmen Russo. No, 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 no. Davvero, eh. È vero, però non lo dovevi dire. Ah, vabbè, vabbè, ma io l'ho dato su un tabloid. Oh, tutti timidi. L'ho dato su un tabloid. Ok? Faccio presente che qua siamo a 500 metri dalla Ferrari, Maranello, eh. Siamo a Pozza e quindi qui l'aria è l'aria di motori e di gente famosa. Avete visto? Bene, quindi ha riempito quel cilindro lì che ci starà circa... 40 kg? Ma secondo me, sì di 40 kg. 40 kg di carne. Adesso viene chiuso. Ok, chiuso. Impressione. Il mio è molto più semplice, te lo dico. Ognuno ha quell'isimmetrica. Esatto. E poi è elettrico quello? Sì. Ma anche adesso lui scarica l'aria subito. Quindi va in pressione e scarica l'aria. Vedi, subito si riempia l'aria, deve ruotare tutto il cilindro da l'aria. Perfetto. Vieni, 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 vieni. Fantastico. Poi la legatura viene fatta successivamente. Esatto. Qui però non era finito il Vudalmo. No, no. No, no, non facciamo mica più qui. Perché facciamo dei mazzi da 4-5 kg in maniera che si possano vendere meglio. Perché se facciamo un mazzo da 7-8-10 kg invece può improvare di venderlo. Vabbè, comunque abbiamo parlato della concia. La concia più o meno, abbiamo detto, sale, pepe, aglio e rami naturali. Quindi tutto molto semplice. Vediamo la legatura. Molte adesso usano una legatrice automatica ma noi siamo ancora un po' l'antica. Può dire un anticismo ci vuole. Ah, io pensavo facessi proprio, questi qua fanno le sgavette. Sì, sì, non facessi le sgavette così. Le sgavette, non fai i nodini. Fagli vedere anche i nodi. Gli fa i 5 kg, dopo i nodi. Ce n'è da fare o no? Non lo so. La comanda. Vabbè, adesso qua loro mi stanno facendo un piacere. Hanno macinato forse 200 kg di carne solo per farmi vedere come si fa la salsiccia. Dopo lo buttiamo via. Ecco. Poi vengono appesi qua, messi di bianco il cammino, vero? No. No, non come una volta. No, stufatura. La spoletta. Niente. Vado a salvere la spoletta. Bene. Allora, questa qua è una fase della formatura, dell'insaccatura, si dice insaccatura, dell'insaccatura della salsiccia. Adesso la dipende alla spoletta? Per farmi vedere la salsiccia. Ok. Noi la leghiamo tra mano una volta. Di solito si lega l'ultimo. Si lega l'ultimo e poi dopo si fa il doppio. Quello per appenderla. Esatto. Poi voi questa qua non la compiezionate. Noi la facciamo fresca quasi tutti i giorni e la mettiamo appesa così nei sacchetti normali, senza sotto uo, senza niente. Ok. Va bene, allora adesso prima di andare via prendo i miei 80 metri di budello e poi vedrò di fare il seguito del video in cucina da me mentre provo a fare la mia salsiccia. poi vi dirò come verrà. Lo vedremo. Ok. Lì. Forse. Ok. Gigi, lo chiamo Gigi perché mai ci conosciamo da quando eravamo a Monelli e aveva le braghe corte, come anche adesso. Le ginocchia sbucciate. Le ginocchia sbucciate. Le ginocchia sbucciate. Ha già detto che prossimamente vi farà parlare con sua sorella per quanto riguarda l'etichettatura del bovino per spiegarvi un po' il discorso della rintracciabilità, le varie scritte, i vari numeri, le varie lettere che voi trovate sopra la cane che trovate anche al supermercato per riuscire a capire da dove proviene, da dove è nato, da dove è nato. Esatto. Tutte queste belle cose qua. Poi dopo magari si farà fare anche un giro per il macello quando un giorno che disorsa. si. Ah. Perché io i miei video di disosso li faccio. Ah. Bravo. Bene. Perfetto. Perfetto. Allora vedere sembra facile, poi dopo quando ci si trova bisogna poi, bisogna poi vedere. ma fai anche la logarica. Si. Quella più sottile. Però l'impasto è sempre quello. L'impasto è sempre quello. Cambio solo il modello. Che è più sottile, basta. Ok. Piccante. Facciamo anche quello. Fate tutto. Per un'ultima. Si perché poi dopo. Ce n'è. Perfetto. 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 Ah quindi tu hai già l'impasto fatto? No. Perfetto è quello che mi è rimasto nella macchina dall'ultimo impasto. L'ultima volta che ho fatto quello che ho fatto con il finotto. Questo qua è quello che mi rimane praticamente dentro il tubo. Ah ok. Quindi la questa qua è una volta dentro la macchina. Ah, è proprio. Comunque ce n'hai qua, ce n'è un bel cuore. Questa è quella della Luganga, io l'ho fatto così, già intubato, già tutto. Questa è una mazza, io te la vendo così. La mazza di Luganga. Esatto. Ed è bagnata perché è dentro la salamoia. Ah, è in salamoia. Ok. Allora, praticamente, se doveste fare la salsiccia in casa e andate dal macellaio a comprare i budelli, si dovrebbero presentare così. Già intubati, per comodità. Se no si manca proprio i mazzetti sotto sale. Secchi, io gli ho detto secchi. Se ci avete qui del salame. Sì, diciamo che non sono proprio secchi al 100%, ma comunque sono più... Da mettere sottovino però. No, li metti a bagno, li lavi, poi vabbè, se uno li vuole lavare con il vino, uno poi... Se vuoi... Quelle dà l'odore che fanno... Ah, ok. Se vuoi dare gentile... C'è anche chi li lava con l'aceto. C'è anche chi li lava con l'aceto bianco. Ok. Guarda, se ti guarda assomigli veramente a Luca Toni. No, ma lui è cugino davvero, non sto scherzando. Sì, però non ci conosciamo, quindi è come se non esistessi. accoglio per meglio la figina. Non menzionatelo perché vi chiedi diritto d'autore. Addirittore. La palle d'ecchia. Allora, fiduosi che si guarda il mio video. Cioè l'aria esce perché la carne si comprima. Esatto. Ah, ok. Quindi qua semplicemente è più piccolo il budello, viene riempito meno e la salsiccia è tutta. Aspetta. Allora, ragazzi, qua siamo pronti per la grigliata, eh. Salsiccia a go go. E qui la vedi che sembra bianchissima, grassissima e... Vedi che sembra tutta... Sì. colore rosso. Quindi appena fatta tende un po'... Sì, risulta un po' più grassa di com'è. Di com'è. Però invece, rimanendo lì, comincia diciamo una fase di stagionatura. Sì. E cambia colore. Io mi ricordo, non so se la faccio ancora, ma Litti, la famosa salsiccia perché la tendevi lì diventava salamino. Sì, la puoi fare anche con questa. Eh, quindi... La puoi fare anche con questa. Però la devi mettere insieme al cammino, davvero. No, è sufficiente che tu la tieni in cella e la tieni un paio di settimane in cella e... E ci fai una salamella. E lei ci viene... Ci viene un... Sì, un salamino. Poi se la prendi fresca, la fori. Allora magari ti viene ecco un po' prima. Difatti la prossima domanda sarebbe stata quella. Voi ci fate i forellini? No, in questa no. In questa sì, c'è fresca no. Se uno la deve stagionare, allora i fori... Ma per quelli che la devono fare a casa, che magari ne fanno un chilo, ma lo consumano in più tempo, in una settimana, no? È meglio farli buchini che spurga un po' di acqua, l'acqua della carne che può fare. No? È meglio di no? Ma a casa è anche a farla tagliare. Quando la vedi in cantina bisogna che la conosci. Non è che... perché sennò ti può fare i buchi... Non è? Scala, sì. Tanta gente se la prendeva con un orgino, però non era capace di seguire da loro. Sì, sì. Soprattutto quelli che vanno a fare sui bagnali a casa... Delle volte prendeva su, semplicemente, sotto il fatto che... C'era gente che ha bisogno di essere qui, ha dato un ruolo. Perfetto, abbiamo fatto i nostri 5, 6, 7 mazzi di Luganica. Ok? Bene. Oh, io ragazzi ho visto tutto l'internet, tutta l'operazione, e vi ringrazio del vostro tempo, della vostra immagine che avete... donato al canale, grazie mille. Ok? Ringrazio Luigi che ci ha fatto vedere una piccola lavorazione per la sua azienda, e vediamo se adesso ce ne fa vedere delle altre. Ok? Va bene? Va bene? Va bene? Allora... Ci vediamo in cucina, che proviamo a fare la salsiccia... Ma una volta. A manovella, ok? Saluto! Ciao ragazzi! Allora, mi dispiace non essere riuscito a farvi vedere la fase della macinatura della carne da gazzotti, ma ve la faccio vedere io a mia moda, insomma. Allora, abbiamo preparato la carne per fare la salsiccia. Allora, abbiamo la coppa di maiale, il prosciutto, polpa di prosciutto di maiale, e la pancetta. Ok? Adesso andrò a ridurla, vi dico le dosi. Abbiamo due chili di coppa, due chili di polpa di prosciutto di maiale, e 900 grammi di pancetta fresca. Ok? Andiamo a ridurla in pezzettini, per poi vaccinarla, per farla passare nel buco del tritacarne. Ok. Ok. Logicamente la carne è stata un po' sgrassata dal grasso in eccesso, andiamo a ridurre l'ultima cosa, la pancetta, ecco, e vado per macinare. Ok, andiamo con la macinatura, logicamente la passeremo solo una volta, cioè non lo facciamo girare due volte il macinato perché vuole più grosso. E qua abbiamo la carne tritata. Vedete ho dovuto ridurre in pezzi più piccoli perché questi castelletti qua sono protezioni per non infilarli dentro le dita, fanno un rialzo in maniera che io non vada a toccare con le dita la chiocciola, è una protezione che ha le tritacarne, diciamo. Quindi se dovesse farla a casa e usate il tritacarne a mano, state attenti alle dita. una volta in maniera, una volta in maniera. Et voilà! Qui abbiamo il nostro macinato per fare la salsiccia. Allora, dopo aver macinato la carne, una volta sola, la passo in un contenitore leggermente più grande per poterla amalgamare meglio assieme alla concia. Allora, su 5 kg di carne mettiamo un etto di concia. E un etto di concia, in questa concia qua c'è sale, pepe, noce moscata e aglio. Poi per fare il nostro etto di concia, in descrizione vi metto le dosi precise di sale, pepe e noce moscata. E poi andremo a mescolare un bicchiere di vino bianco, ok? Tutto insieme. Quindi adesso mi allargo un po' la carne. Poi spargo per bene la nostra concia. E inizio a mescolare. Ok, adesso aggiungo il vino. Ok. Il vino non so se lo devo per un bicchiere, eh? Comunque poi dopo guardate in descrizione che vi metto tutti gli ingredienti, i pesi. Proviamo di fare un bel lavorino. Ok? Adesso è bella, bella umida. Intanto converso con il nostro macellaio di fiducia, Andrea. Chi mi tiene d'occhio di quello che faccio, eh? Intanto mi sta preparando i budelli. Ok, quelli che ho preso là in ditta. Come ce l'aveva detto Gisi, bisogna metterli a molla nell'acqua perché sono in salamoia. Quindi non lascio a cuarli. Un po' qui. Ok. Quando vedete che la carne comincia a fare gli sfilacci, siamo pronti, siamo pronti e il nostro misto è pronto per essere modellato. Dico bene, Andrea? Sì. Ok. Quindi qui nessun conservante, eh? Salsiccia fresca. Ok, a posto. Allora, abbiamo il nostro macchinario per imbudellare. Proprio uno dei più semplici, eh? Che poi dopo vi metterò il link in descrizione. Io l'ho acquistato su Amazon, vi metto il link in descrizione. Allora, andiamo. Praticamente non è altro che una mega siringa con una nuova novella che va con lo stantuffo e entra dentro e spinge la salsiccia dentro a questo colletto qua. Qua ci andrà infilato il budello e girando la leva il budello si riempie di carne. Allora, adesso teniamo su il cilindro e lo vado a riempire di carne. Con la carne che ho precedentemente mescolato. Dunque, secondo l'istruzione dovrebbe tenere circa 3 kg, ma secondo me qua ce ne va molto di più. Vuole compressa proprio internamente il più possibile così esce l'aria. Ok, bella pressata. Direi che ci vada tutta. Ok, non lasciamo indietro niente. Bene, adesso lo posizioneremo all'interno della sua maschera e andiamo a fare la salsiccia. Ora, adesso infiliamo il budello nel nostro imbutino, diciamo. che è bello resistente, come avete visto all'inizio del video è un budello naturale. Bene, allora adesso andiamo a riempire il nostro budello con la salsiccia. Direi che sia la cosa più semplice del mondo da fare. Però in due è meglio perché uno gira, non essendo motorizzato, uno gira e l'altro tira fuori la salsiccia. Allora adesso andrà a legare, vedete, gli lega proprio l'inizio e poi va a creare i nodini in questa maniera qua, girando il budello. Vedete come è resistente. Non ci andremo a mettere la corda perché noi questa qua la vedremo subito, anche perché non ha conservanti, come vi dicevo prima. Al massimo, prima che diventi brutta, al massimo un giorno, due. Anche tre al massimo, ma non di più. Non ha conservanti. Adesso mentre la inserivamo nel budello ne ho pentito un pochettino ed è buonissima. Allora adesso stavo parlando con Andrea che voleva fare una prova assaggio. Esatto, adesso la cuoceremo. Adesso ti metto su un pentolino e poi dopo la faremo un po' ai ferri, vediamo come viene. Bisogna lasciarla riposare o ci riposiamo noi? Facciamo prendere un po' di frigo. Eh, quindi la mettiamo una mezz'oretta o un'oretta in frigo e poi dopo la andiamo a cuocere. Allora, come abbiamo visto in macello, questo è il risultato. Sono cinque chili di salsiccia che adesso andremo a mettere in cella un'oretta al tempo che diventi bella fresca, bella fredda e poi andrò a cuocere. Ci vediamo dopo. Allora, sono cotte come piacciono a me. Perfetto. E adesso andremo a fare la prova assaggio. Saranno bollentissime come al solito. Buonissimo. Buona la concia. Si sente l'aglio giusto? E' veramente buona. Quindi adesso rimetterò le dosi esatte della concia per fare un chilo su un chilo di salsiccia così se uno se lo vuole fare a casa sarà difficile farne solo un chilo perché comunque tutt'ora che uno invia un tubo del genere bisogna che ne metta dentro un bel po'. E vi metterò il link in descrizione dell'insaccatore che costa pochissimo cioè uno pensa chissà cosa costa invece non è costato tanto. E niente vado avanti con un'altra prova assaggio perché è veramente buona. Buona. Poi se nell'impasto volete metterci il peperoncino il finocchino quello che vi piace di più il tartufo potete farlo come volete mescolate bene poi assaggiate l'impasto anche crudo che non succede niente non si muore e sentite un po' se vi può andare bene poi insaccate. Vi consiglio di cuocerla il giorno dopo perché sennò si potrebbe sbriciolare quindi lasciarla in frigo una notte almeno e poi dopo cuocerla il giorno dopo. Va bene io spero che il video vi sia piaciuto è stata una circunnavigazione di Moderna e provincia e se ti è piaciuto mette mi piace se ti vuoi iscrivere al canale clicca come al solito qua non sulla K ma lì nel langolino e grazie a tutti per la visione ciao